Avvocato Laboria, è soddisfatto per quanto avvenuto ieri anche in appello, è arrivata la soluzione per lei e per il consigliere comunale di Stefano. Una lunga procedura però, come voi sottolineate più volte, la giustizia alla fine trionfa. Sì, una grande gioia, una grande soddisfazione. Devo dire che in questi due anni, nonostante la cosiddetta alea del giudizio, non ho avuto dubbi che la magistratura alla fine prendesse questa decisione. Non c'era assolutamente nulla, per cui insomma dovevamo essere condannati, non avevamo fatto nulla di illecito e quindi giustizia è stata resa. Ma bisogna correre dei rischi per chi fa politica? No, assolutamente. Io quando mi è stato notificato l'invito a dedurre, la prima cosa che ho fatto è stato andare a controllare la delibera, questa di approvazione dei bilanci, non c'era nulla assolutamente da cui potevano emergere profili di liceità. E peraltro io come assessore ero molto attenta quando firmavo delle delibere e quindi a quel punto ho deciso di non pagare, non era giusto, non era corretto. Anche perché in quel caso pagando avreste ammesso le vostre responsabilità? Ovvio, ma torno a ripetere, io ho letto la delibera, l'ho letta attentamente e torno a ripetere, quando io mi accingevo a sottoscrivere una delibera, la sottoscrivevo pienamente consapevole che in quella delibera non c'erano profili di illiceità. E secondo lei gli altri invece hanno fatto male alla fine a pagare? Ma io non voglio assolutamente giudicare gli altri, ognuno decide per se stesso. Torniamo un attimo alla soluzione di ieri, comunque diciamo soddisfatta e adesso le cambia qualcosa nella vita? No, non è che cambia qualcosa, però è un modo per dimostrare a tutti che non si è fatto nulla di sbagliato, nulla di illecito. Era giusto così, era il giusto finale di questa vicenda. Qualcuno in merito alla soluzione di ieri, parliamo della vecchia giunta, la chiamata per congratularsi? Io non sono mai stata chiamata da nessuno, né al momento in cui ho prestato le mie dimissioni, né al momento in cui ho ricevuto il primo verdetto di assoluzione, né ieri.